Canale YouTube di Luigi Gaglio Un amore di Svan è la seconda parte del primo libro, del primo romanzo che si intitola La strada di Svan, del primo romanzo del ciclo della Alla ricerca del tempo perduto, che è uno dei cicli narrativi più importanti della storia della letteratura francese e in generale del novecento. Questo autore, Marcel Proust, nato nel 1871 in un sobborgo di Parigi si era ammalato quando era giovane di asma e per questo motivo era stato costretto a una solitudine forzata, diciamo, quindi era appartato, era una persona molto schiva, molto riservata, eccetera. E quindi a un certo punto della sua vita si poté dedicare alle memorie, diciamo, ai ricordi, ricordi della sua infanzia e si concentrò, concentrò la sua narrativa su questo. Soprattutto lui scoprì una cosa importantissima, che le cose che, Giulia, le cose che noi ci ricordiamo meglio non sono quelle che a un certo punto diciamo, ci mettiamo a tavolino e ci sforziamo con la ragione, con la mente di ricordare, ma sono quelle che appaiono, diciamo, improvvisamente, cioè alla memoria, intendo dire che sorgono alla memoria magari attraverso i cinque sensi, perché come nel brano probabilmente più famoso della recherche, come quando lui intinge un biscottino, un pasticcino, la madeleine, insomma, è una specie di dolce a forma quasi di conchiglia, no? Francese, tipicamente francese. Lo intinge nel tè e in questo modo riesce a ricordare a un flash di quello che gli avveniva la domenica a Combré quando era bambino e quando la zia, appunto, gli preparava il tè, eccetera. Quindi è la memoria involontaria. Questo è probabilmente il più grande apporto che ha dato Marcel Proust alla narrativa mondiale, alla narrativa del Novecento. Quindi praticamente si tratta di romanzi in cui prevale proprio il ricordo, l'analisi dei nostri ricordi, dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti. Ripeto, un ciclo fondamentale questo della recherche. Qui trovate, alla pagina 405, una specie di riassunto dei vari, appunto, romanzi di questa recherche. Da questo primo della strada di Svan, di cui leggeremo oggi un brano, a quello dell'ombra, all'ombra delle fanciulle in fiore, è praticamente la storia della figlia di Svan, che era ancora però piuttosto giovane a quest'epoca, e di un'altra ragazza di cui si innamora, Marcel. Marcel è una specie quasi di alter ego dello scrittore, che infatti si chiama Marcel, Marcel Proust, però con delle differenze, insomma, perché è pur sempre più che altro il protagonista di una serie di romanzi. Poi ci sono delle storie piuttosto complicate nei romanzi successivi di questo ciclo. Sempre storie d'amore, per esempio, dicevamo, con Albertine, e poi alla fine quando morirà Albertine con Gilbert, che era la figlia, appunto, di Svan. Quindi qua andiamo invece all'origine della storia, nel momento in cui Svan non era ancora sposato con Odette de Cressy e si è innamorato, appunto, di Odette de Cressy. Ecco, dicevamo che la prima parte della strada di Svan è quella in cui lui si ricorda della sua infanzia a Combré. La seconda parte, quella intitolata Un amore di Svan, come vedete, è stato pubblicato anche questa seconda parte separata dal resto del romanzo. Ci sono state molte trasposizioni cinematografiche o televisive, fiction televisive, chiamiamole così, soprattutto di questa storia qui. Perché è una storia romantica, diciamo, no? Poi, nella terza parte, Nomi di Paesi, già Svan si è sposato con Odette e già Marcel prova un infantile ma profondo sentimento d'amore sullo sfondo degli Champs-Élysées per la figlia di Svan e di Odette, cioè per Gilbert, come ho già detto prima. Ecco, la cosa importantissima. L'io narrante, porta il nome dello scrittore Marcel, è un uomo maturo che ricorda quello che gli è avvenuto a ritroso, diciamo, ricorda tutta quanta la sua vita, tutta quanta la sua esistenza. Cerca di ricoperare il passato, quel tempo perduto, non solo perché non ci appartiene più, ma soprattutto perché non si è saputo utilizzare bene. Ecco, qui trovate poi sempre sul vostro libro la riflessione alla pagina 406 sulla memoria volontaria, la memoria involontaria di cui vi ho detto prima, praticamente, Giulia, c'era un filosofo che si chiamava Berson che era arrivato a concepire un'idea del genere, cioè che nella nostra mente, se ci pensi bene, passato e presente convivono, nel senso che noi stiamo vivendo lunedì mattina a scuola alle nove e mezza, eccetera, ma magari con la nostra mente ancora viviamo dei momenti passati, che possono essere passati di un passato recente o di un passato remoto. Insomma, il tempo non è così lineare nella nostra mente, non è che si cancelli il passato nel momento in cui stiamo vivendo il presente. Convivono questi tempi e allora Marcel Proust, nella sua narrativa, ma vedremo anche Italo Svevo e tanti altri autori della letteratura del Novecento, fanno convivere più piani temporali nei loro testi in contemporanea. Bene, allora dicevamo che il brano che leggeremo oggi è tratto dalla parte centrale del primo romanzo e appunto quello sull'amore di Svan. In questa parte del suo primo romanzo Marcel Proust rievoca la passione amorosa di Svan, un uomo che Marcel, protagonista del romanzo veramente autobiografico, ha conosciuto quando da bambino passava l'infanzia a Combré. Centrale nell'articolarsi delle vicende sono le riflessioni, le meditazioni, le associazioni, i pensieri, i ricordi che hanno per oggetto se stesso e gli altri uomini e donne che Marcel ha incontrato e poi tantissimi altri argomenti, ma sempre tutti filtrati attraverso a questo punto di vista estremamente soggettivo, i ricordi della mente, i ricordi giovanili. Ecco, fra i vari personaggi che vengono descritti in questo romanzo assume un ruolo fondamentale Charles Svan. Ecco, il brano che noi stiamo per leggere, dicevamo, è tutto imperniato sulla tormentata passione di Svan per Odette de Cressy. Svan, Charles Svan, è un uomo d'arte, un intellettuale molto raffinato, mentre Odette de Cressy è una donna che è un po' una rivista, nel senso che cerca di farsi largo nella società e spesso lo fa intessendo rapporti amorosi plurimi con tantissimi uomini per cercare, insomma, di... è un po' un'arrampicatrice sociale. Questo è un po', diciamo, quello soprattutto che dice la gente riguardo a Odette. Ma il nostro Svan si è innamorato di lei e quindi per lui Odette è una creatura quasi idealizzata. Ecco, ci sono molti elementi. Sto facendo leggere un romanzo di Italo Svevo che si intitola Senilità. E ho trovato molti agganci, molti, come dire, molte analogie fra questi due romanzi. Perché anche in quel caso c'è un protagonista, che lì si chiama Emilio Brentani, che è innamorato di una donna, e lì si chiama Angiolina Zarri, che è un po' discutibile, diciamo, di facili costumi, ma lui la idealizza e la vuole educare, formare, eccetera. E non si rende conto che certe volte lei continua con le sue abitudini, diciamo, abitudini sentimentali piuttosto libere, diciamo, facili. Ecco, come vedete, l'ho già detto, ci sono state molte trasposizioni cinematografiche di questo romanzo, da cui trarremo dei fotogrammi che si alterneranno al testo che andiamo a leggere. Ecco, ho bisogno un attimo di spazio adesso perché dobbiamo leggere questo bellissimo brano. Egli sentiva come quell'amore fosse qualcosa che non corrispondeva a nulla di esteriore, di accertabile da altri. Si rendeva conto che le qualità di Odette non giustificavano che egli attribuisse così gran pregio ai momenti passati accanto a lei. Ecco, dicevamo, le tecniche di questo romanzo. Anche se i ricordi sono di Marcella, è chiaro che qui assumiamo il punto di vista di Charles, di Charles Svan, no? È lui che cerca di costruirsi un rapporto, di giustificare questo rapporto, di idealizzarlo, no? E come ho già spiegato anche nell'introduzione, in realtà quello che la gente pensa su Odette de Cressy è completamente diverso rispetto a quello che pensa il nostro Svan, che la ritiene buona, ingenua, innamorata, sincera. Tutto il contrario probabilmente di quello che pensavano gli altri, di quello che era accertabile da altri. E spesso, quando l'intelligenza positiva regnava sola in Svan, egli voleva cessare di sacrificare tanti interessi intellettuali e sociali a un piacere immaginario. Ma la piccola frase, appena egli la udiva, sapeva rendere libero in lui lo spazio che le era necessario, mutare le proporzioni della sua anima. C'era però un momento in cui lui riusciva a liberarsi da ogni preoccupazione, il momento in cui questa passione amorosa raggiungeva il suo apice. Ed era quando lei si metteva al pianoforte a suonare una piccola frase. Attenzione, in questo caso la parola frase sta a indicare un brano musicale, praticamente un professore di pianoforte, insomma, aveva realizzato una piccola composizione, una frasettina musicale molto bella, molto orecchiabile, eccetera, e quindi lui chiedeva sempre a Odette di suonare al pianoforte questo motivetto. E quando suonava questo motivetto, lui si lasciava andare ancora di più ai suoi sentimenti. Vi era riservato un margine e un godimento che non corrispondeva neanchesso ad alcun oggetto esteriore e che tuttavia, invece di essere puramente individuale come quello dell'amore, soggiogava Svan come una realtà superiore alle cose concrete. Probabilmente la musica era qualcosa che era in grado di, per un attimo, di liberarlo da ogni altra preoccupazione e di sentire, di fargli provare un piacere che non era semplicemente il piacere di avere lì vicino la ragazza che lui amava, ma era come una realtà superiore alle cose concrete stesse. Quella sete di un incanto sconosciuto, la piccola frase, piccolo motivetto musicale, la risvegliava in lui, cioè risvegliava questa realtà superiore. Certe volte capita anche a noi, quando ascoltiamo un brano musicale che ci piace particolarmente, di sentirci quasi elevati, al di sopra, insomma, della realtà materiale, ma senza portargli nulla di definito per saziarla, di modo che quelle regioni dell'anima di Svan, dove la piccola frase, ecco qui un altro fotogramma da uno sceneggiato, aveva cancellato la cura degli interessi materiali, quella piccola, quella musica, quella musica celestiale per lui aveva, l'aveva cancellato ogni preoccupazione, la cura degli interessi materiali contingenti, grazie, le considerazioni umane valevole per tutti, esse le aveva lasciate vuote e bianche, ed egli era libero di scrivervi il nome di Odette. Probabilmente anche questa musica gli permetteva di fantasticare maggiormente, e quindi di colorare tutta quanta la sua vita dell'amore per Odette. È una passione, una passione molto forte quella che prova Svan per Odette. Poi, a quel che poteva avere di un po' breve e fallace l'affetto di Odette, la piccola frase veniva ad aggiungere, ad amalgamare la propria essenza misteriosa. Quindi, ecco, notiamo quindi il punto di vista interno. È vero che il narratore di questi romanzi è un narratore onnisciente, ed esterna al personaggio e alla vicenda. Tuttavia, egli entra e penetra nei pensieri più intimi del personaggio, esprimendone tutte le idee, i ricordi. E quindi, per esempio, proprio questa elevazione quasi spirituale, no? Di fronte ad un personaggio che invece, per gli altri, mostra tutta la sua grettezza e immaterialità, riesce questa musica a elevare Svan fino a, appunto, a idealizzare questa donna. A vedere il volto di Svan, mentre ascoltava la frase, pareva stesse aspirando un anestetico, che desse maggiore ampiezza al suo respiro. È quasi una droga, diciamo, questa musica per Svan. Sembra proprio quasi, non so, invasato. E il piacere che gli dava la musica, e che presto sarebbe divenuto per lui una vera necessità, somigliava, di fatti, in quei momenti, al piacere che avrebbe provato nello sperimentare dei profumi, nell'entrare in contatto con un mondo per il quale non siamo stati creati, che ci sembra senza forma, perché i nostri occhi non lo percepiscono, senza significato, perché sfugge la nostra intelligenza, e al quale non giungiamo se non attraverso un solo senso. Ecco, ragazzi, vi ho già spiegato come siano importanti i cinque sensi per Marcel Proust, nel senso che determinate cose non si possono esprimere e provare con la ragione, col pensiero, e quindi proprio i nostri cinque sensi sono in grado di amplificare certi sentimenti. Grande riposo, misterioso rinovellamento, quindi rinnovamento, questa purificazione spirituale che gli permette quasi di vivere di nuovo, di cambiare, insomma, per lui, i cui occhi, ecco qui vedete, un'immagine tratta da uno di questi, di queste fiction, in cui, come vedete, Odette de Cressy è interpretata da Ornella Muti. Benché sensibili amatori di pittura, e lo spirito, benché sagaci osservatori di costumi, recavano per sempre la traccia indelebile dell'aredità della sua vita, sentirsi trasformato in una creatura estranea all'umanità, cieca, priva di facoltà logiche, quasi un fantastico liocorno, una creatura chimerica, atta a percepire il mondo solo attraverso l'udito. Allora dice che, senz'altro, gli occhi, visto che lui era, abbiamo detto, un intellettuale, soprattutto amante dell'arte, erano importanti per lui gli occhi, lo spirito, eccetera, ma sono proprio queste sensibili, sensazioni diverse, questi altri sensi, che risvegliano in lui una creatura chimerica, cioè le illusioni, capite? Atte a percepire il mondo solo attraverso l'udito, eh? Dicevamo, la riflessione sui cinque sensi nei testi di Proust, e qui è proprio l'udito, quindi questo brano musicale che permette a Svan di elevarsi spiritualmente. e come nella piccola frase cercava intanto un senso dove la sua intelligenza non poteva scendere, quale strana ebrezza provava nello spogliare la sua anima più interiore di tutti i soccorsi del ragionamento e farla passare sola nel colatoio nel filtro oscuro del suono. Cerchiamo di coglierne un po' tutta la ricchezza. Ad esempio, proprio, in particolar modo, qui abbiamo una frase che è quasi una frase chiave nella letteratura di Marcel Proust. Liberarsi, Giulia, liberarsi da liberarsi, qui dice, da tutti i soccorsi del ragionamento, cioè da tutti gli aiuti della ragione, della mente, del senno, e invece fare passare tutto nel colatoio, nel filtro oscuro. Qui abbiamo una metafora che rappresenta proprio l'ascoltare brani musicali, diventa una sorta di filtro che sostituisce quelli che sono, dicevamo, i soccorsi del ragionamento, cioè gli aspetti tipicamente razionali. Per arrivare a questa profondità, a, come dire, a perdersi, insomma, in questo ascolto musicale, occorre mettere la ragione un po' da parte. Cominciava a rendersi conto di tutto quello che vera di doloroso, forse anche di segretamente inappagato, in fondo alla dolcezza di quella frase, ma non ne poteva soffrire. Che importava se essa gli diceva che l'amore è fragile? Il suo era così forte, si trastullava con la tristezza che essa diffondeva, la sentiva passare su di sé, ma come una carezza che rendeva più profondo e più dolce il sentimento che gli aveva della propria felicità. Ecco, abbiamo detto si lascia trasportare, si lascia andare a queste sensazioni e riesce in questo modo ad astrarsi da tutto ciò che è materiale e magari anche da tutto ciò che è reale, perché è quasi in un altro mondo quando ascolta quel brano musicale. La faceva suonare dieci, venti volte e ho detto e gli chiedeva, scusate, le chiedeva di ripetere dieci o venti volte quello stesso motivo, cioè di suonare al pianoforte per dieci o venti volte lo stesso motivo, pretendendo che nello stesso tempo Ella non smettesse di baciarlo. Erano degli incontri amorosi, ovviamente, quelli fra Svan e Odette. Ciascun bacio chiama un altro bacio. Ah, nei primi tempi che si ama i baci nascono tanto naturalmente, pullulano senza tregua e sarebbe più difficile contare i baci che ci si è dati in un'ora che contare i fiori di un campo nel mese di maggio. Lei simulava di fermarsi dicendo come vuoi che suoni così mentre tu mi tieni? Non posso fare tutto alla volta, almeno cerca di sapere quel che vuoi. Devo suonare la frase o coccolarti? Lei un po' si lamentava con lui perché lui le chiedeva contemporaneamente di suonare e intanto la baciava. E continui a distrarmi. Come posso fare due cose contemporaneamente? Suonare il pianoforte e coccolarti. Lui si arrabbiava ed ella dava in una risata che si trasformava e ricadeva in una pioggia di baci su di lui. Oppure lo guardava con aria imbronciata. Egli rivedeva un volto degno di comparire nella vita di Mosè di Botticelli. Abbiamo detto che è un amante della pittura questo tale Svan. Immagina quindi che lei sia quasi un personaggio quasi da ritrarre in uno di quei quadri stupendi di Botticelli. Ve la situava dava al collo di Odette l'inclinazione necessaria e quando l'aveva ben dipinta a fresco nel secolo XV sulla parete della Sistina l'idea che ella intanto fosse rimasta lì presso il piano nel momento presente pronta ad essere baciata e posseduta l'idea della sua materialità e della sua vita veniva a inebriarlo così fortemente che con l'occhio smarrito le miscelle tese come per divorare egli s'avventava su quella vergine di Botticelli e prendeva a morderle le gote è totalmente preso dall'amore per lei si lascia trasportare immagina che sia che abbia davanti a lui ci sia non una donna in canna ed ossa ma quasi una rivisitazione di quelle creature bellissime dipinte sui quadri di Botticelli o sugli affreschi della Sistina quindi tipicamente quelli Michelangeleschi si lascia trasportare da questo amore poi dopo che l'aveva lasciata non senza essere rientrato a baciarla ancora perché aveva scordato di portare via con sé nel ricordo qualche particolarità del suo profumo dei suoi tratti tornava nella sua vittoria la vittoria è una carrozza è terminato l'incontro amoroso è stato un incontro amoroso tutto fatto di musica e di baci benedicendo Odette che gli permetteva quelle visite quotidiane che egli sentiva non dovevano darle una gran gioia ma che preservandolo dalla gelosia togliendoli l'occasione di soffrire di nuovo del male dichiaratosi in lui la sera che non l'aveva trovata dai Verduren l'avrebbero aiutato a giungere senza più altre di quelle crisi di cui la prima era stata così dolorosa e sarebbe rimasta l'unica al termine di quelle singolari della sua vita quasi incantate quali erano le ore in cui egli attraversava Parigi al chiaro di luna qui dobbiamo notare anzitutto alcune cose cioè prima cosa il periodare effettivamente è complesso come avete visto ci sono moltissime frasi subordinate si tratta degli ipotassi i pensieri quindi di Svan si intrecciano l'uno all'altro e questo intreccio complicato se vogliamo trova una sua rappresentazione nella sintassi elaborata del testo come avete visto infatti ci sono tante frasi che si accavano i periodi sono lunghi ecco lui si incontrava con lei anche perché così almeno era sicuro che nei nei loro appuntamenti durante i loro appuntamenti in quel tempo lei non lo tradiva ah sì perché dovete sapere una cosa purtroppo ho detto tradiva molte volte Svan e quindi lui era contento di stare con lei perché dice almeno quando è con me la mia gelosia si placa perché era successo quando si incontravano loro avevano degli appuntamenti quotidiani o a casa di lui o a casa di lei oppure la sera si trovavano da questi Verduren questa famiglia insomma si erano dati appuntamento una volta appunto a casa dei Verduren e lei non c'era e quindi a lui era venuto il sospetto era venuto il sospetto che lei lo tradisse questi sospetti erano abbastanza fondati perché come abbiamo spiegato all'inizio effettivamente Odette de Cressy intesseva parecchi rapporti sentimentali contemporaneamente e infatti dice forse quei baci quelli che rappresentavano per lui per Svan il massimo della passione non erano una gran gioia infatti Odette non è profondamente innamorata di Svan come Svan è innamorato di Odette Odette è interessata solo la propria ascesa sociale a molte avventure galanti a diversi amanti Svan divorato dalla gelosia non è mai sicuro che ciò che gli dice Odette sia vero anche questo è un'analogia vi dicevo con quel testo di senilità di Italo Svevo e con i rapporti plurimi che intesse Angiolina Zarri con tanti uomini e non solo con Emilio Brentani e osservando durante il ritorno mi ha detto che torna a casa nella sua carrozza Victoria vuol dire carrozza e osservando durante il ritorno come l'astro avesse ora mutato di posto rispetto a lui e si trovasse quasi al limite dell'orizzonte l'astro della luna ovviamente sentendo che il suo amore obbediva anch'esso a leggi immutabili naturali si domandava se la fase in cui era entrato sarebbe durata ancora molto tempo se presto il volto amato non sarebbe apparso dal suo pensiero che in una posizione lontana è decresciuta è prossimo a cessare di diffondere incanto è quasi immerso in questo sentimento e pensa ma per quanto tempo sarò così preso da questo amore da questo sentimento poiché Svan trovava un incanto nelle cose da quando era innamorato come nel tempo in cui adolescente si credeva un artista ma non era lo stesso incanto questo soltanto Odette lo conferiva loro sentiva rinascere in sé le ispirazioni della giovinezza che un'esistenza frivola aveva dissipate ma tutte portavano il riflesso l'impronta di un essere particolare e nelle lunghe ore che gli ora trovava un piacere sottile nel trascorrere la casa solo con la sua anima convalescente ridiveniva poco a poco se stesso ma appartenendo ad un'altra persona ecco qui vedete che viene presentato Svan dal narratore la storia di Svan il suo passato gli anni della giovinezza sono presentati dal narratore che rievoca la vita frivola le aspirazioni l'incanto delle cose che Svan osservava da adolescente tutto questo mondo ritorna alla memoria proprio grazie all'amore per Odette andava da lei soltanto la sera e ignorava affatto l'impiego del suo tempo durante il giorno come ignorava il suo passato al punto da mancare anche di quel piccolo ragguaglio iniziale che permettendoci di immaginare quel che non sappiamo ci dà il desiderio di conoscerlo a tutto sommato non gli interessa che cosa faccia Odette durante il giorno i loro appuntamenti sono serali e quindi tutto è concentrato in quelle poche ore della sera quindi non si domandava quel che la facesse nel quale fosse stata la sua vita solo a volte sorrideva pensando come alcuni anni prima quando non la conosceva gli avevano parlato di una donna che se ben ricordava doveva essere certamente lei come di una prostituta una mantenuta una di quelle donne alle quali egli attribuiva ancora essendo vissuto poco in loro compagnia tutto il carattere fondamentalmente perverso di cui le dotò a lungo la fantasia di certi romanzieri a dire la verità qualcuno aveva raccontato tutto a Svan di come era fatta Odette di cosa faceva ma lui come abbiamo spiegato poi la idealizza e quindi trasfigura questa immagine che invece agli occhi degli altri lo vedremo ancora adesso sarà molto più greta e meschina si diceva che spesso non c'è da da prendere il senso diametralmente inverso delle reputazioni create dalla società per giudicare con esattezza una persona quando a tale carattere opponeva quello di Odette buona ingenua innamorata di ideale ecco come vedete qui c'è un forte contrasto un'antitesi fra quello che dice la gente su Odette la gente infatti la definisce una mantenuta una prostituta carattere perverso eccetera lui invece per lui è buona ingenua innamorata di ideale tanto incapace quasi di non dire la verità che avendola pregata un giorno per poter pranzare solo con lei di scrivere ai Verduren che non stava bene il giorno seguente davanti alla signora Verduren che le domandava se stesse meglio l'aveva visto arrossire balbettare e riflettere suo malgrado sul viso il dolore il supplizio che era per lei mentire e mentre nella risposta moltiplicava particolari mentati sulla sua pretesa in disposizione del giorno prima sembrava chiedere perdono con gli sguardi supplichevoli e la voce desolata della falsità delle sue parole nella idealizzazione di Odette che viene fatta da Svan vediamo una donna praticamente incapace per lui di mentire mentre le cose probabilmente stanno in un modo diverso in certi giorni tuttavia ma di rado ella veniva da lui nel pomeriggio a interrompere le sue fantasticherie o lo studio su Vermeer ecco vi ho detto che lui Svan si interessava di arte e Vermeer infatti è quel famoso pittore di Delft del 600 e quindi stava studiando sui quadri di Vermeer quando lei arrivava anche di pomeriggio quindi non solo di sera venivano a dirgli che la signora di Cressy era nel salottino andava a raggiungerla cioè Odette era lì andava a raggiungerla e quando apriva la porta al volto rosio di Odette appena lei vedeva Svan veniva a mischiarsi mutando la forma della sua bocca lo sguardo dei suoi occhi la modellatura delle sue gote un sorriso rimasto solo egli rivedeva quel sorriso quello del giorno prima un altro con cui lei l'aveva accolto questa o quella volta il sorriso che era stato la sua risposta in carrozza quando le aveva domandato se le incresceva che raddrizzasse la cateleia lei spesso aveva una specie di fiore un'orchidea che ornava il suo vestito allora lui prendeva come scusa il fatto di sistemarle questo fiore per scusa per come dire per accostarsi a lei per toccarla per avvicinarsi a lei e per iniziare un momento d'amore e la vita di Odette nel resto del tempo da che non ne sapeva nulla col suo sfondo neutro senza colore gli appariva simile a quegli studi di Watteau un pittore del settecento francese in cui si vede un qua e là dappertutto in tutti i sensi disegnati con matite a tre colori su carta giallo camoscio innumerevoli sorrisi a Watteau si attribuisce infatti l'invenzione del genere delle feste galanti raffigurazione di uomini e donne in boschi operati ritratti in atteggiamento di galante corteggiamento ma a volte in un cantuccio di quell'esistenza che Svan vedeva tutta vuota perché non poteva raffigurarsela qualche amico che sospettando il loro amore non si sarebbe arrischiato a dirgli nulla di lei che non fosse insignificante gli descriveva la figura di Odette che aveva veduto al mattino stesso salire a piedi la rue Abatucci Abatussi in francese in una visita guarnita di moffetta con un cappello a Rembrandt e un mazzolino di viole allo scollo questo semplice schizzo sconvolgeva Svan mostrandogli di improvviso come ho detto avesse una vita che non gli apparteneva intera qualcuno intanto gli raccontava di quello che lei faceva di giorno al mattino voleva sapere a chi avesse cercato di piacere con quell'abito che non le conosceva si riprometteva di domandarle dove andava in quel momento come se in tutta la vita in colore quasi inesistente della sua amante non vi fosse che una sola cosa fuori di tutti quei sorrisi rivolti a lui la sua passeggiata sotto un cappello alla Rembrandt con un mazzolino di viole allo scollo ecco quindi abbiamo detto si alternano i sublime e i mediocre in questo brano